9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 per le vie di Luino sia a lungo lago che parte storica oh mamma mia questo sì che è un bello uomo gente che mi mette roba in tasca ho sempre più paura di fare questo lavoro vedo che c'è anche la categoria passeggino quest'oggi molto bene, ottimo forza ragazzi, forza aspetta qui, non arrivo tra 11 chilometri e mezzo e un quarto d'ora 10 minuti e un quarto d'ora, cosa ci mettete grosso modo ecco, loro forza 20 minuti buona partenza ragazzi ah c'è anche la categoria col cane diciamo, è il doppio grazie a tutti